Un nuovo pentito si affaccia sulla scena giudiziaria e rischia di provocare un terremoto nel crimine organizzato di Mezzitalia. Si tratta infatti di Nicola Femi, ha detto anche Rocco, oppure Ucurtu, ma meglio conosciuto, come il boss delle slot machine, già titolare di un impero economico costruito sul gioco d'azzardo e sul narcotraffico. La notizia è stata tenuta riservata per mesi dagli inquirenti, ma è venuta fuori ieri durante un processo per droga in corso a Catanzaro, nomi in codice e anni, cogliendo di sorpresa anche l'avvocato difensore di Femia. Durante l'udienza infatti il procuratore aggiunto della DDA Vincenzo Luberto ha calato tre verbali in interrogatorio con le prime confessioni, messe nere sul bianchio dal neopentito tra febbraio e marzo. Verbali falcidiati dagli omisis, ma nei quali si fa accenno qui e là, ai clan e un po' di tutte le province calabrese e non solo. Dell'arresto, già da anni, l'uomo originario di Marina di Gioiosa Ionica è considerato dagli investigatori alla stregua di un autentico paperone della malavita con interessi finanziari che vanno dall'Emilia Romagna alla Lombardia, passando fino anche da San Marino. Diverse, poi le informativa antimafia che fotografano i suoi rapporti con l'Andranche da Calabrese, sia nel Regino che a Cosenza, specie nel centro costiero di Santa Maria del Cetro, avamposto dal quale avrebbe intessuto accordi con la Camorra, in particolare con il clan dei Casalesi. Il piatto forte, però, è rappresentato dai videopoker, un business che di recente lo ha fatto finire nel mirino dell'antimafia emiliana. Blecchimone è infatti il processo che lo scorso febbraio ha segnato la sua condanna a 26 anni 10 mesi di carcere per associazione mafiosa. Si tratta dell'inchiesta che, tra le altre cose, ha immortalato Femia come autore delle minacce al giornalista Giovanni Tizian. In una telefonata, intercettata nel 2011, infatti il boss parlava di sparare in bocca al cronista autore di alcune inchieste sui presunti affari dell'Andrangheta in Emilia Romagna. E poi rapporti pericolosi con imprenditori, broker e faccendieri e soprattutto politici, sospetti che inseguono Nicola Femia, detto Rocco, da anni, ai quali lui stesso ora potrà offrire tutte le conferme del caso. Le sue prime dichiarazioni messe in chiaro durante il processo, ovvero il narcotraffico sull'asse Calabro Albanese, con menzioni speciali per le cosche valenti di Scalea e muto di Cetraro, ma con ogni probabilità. Questo non è che l'inizio.